Questo pomeriggio abbiamo discusso insieme agli studenti e studentesse il tema della pedagogia che può essere una pedagogia che umanizza, che libera, oppure che disumanizza e sottomette. La seconda è la pedagogia dei mafiosi, l'altra è la pedagogia della scuola italiana, di una scuola democratica e perciò abbiamo insieme analizzato, io ho spiegato un po' il libro Cattivi maestri, utilizzato volutamente al contrario perché quando c'è una mentalità diffusa o mafiosa o di corruzione o di furbetti o di prepotenze quando la mentalità è sbagliata chi insegna le cose giuste è trattato da cattivo maestro. In territori dove la mafia impera i mafiosi vogliono dirci che gli insegnanti veri sono loro e chi insegna invece la libertà, l'onestà, la democrazia, l'amicizia, la felicità, ecco, e chi insegna tutte queste altre cose grandiose, questi diventano cattivi maestri e loro li vogliono emarginare, stigmatizzare, mettere da parte. Perciò abbiamo discusso insieme questi argomenti, insieme al preside di questa scuola e poi insieme anche agli studenti e le studentesse.